È venuto fuori quello che già mi aspettavo, visto il lavoro che faccio quotidianamente all'interno del mio ufficio di ascolto, soprattutto per i cittadini delle zone periferiche. Manca sostanzialmente l'ABC nelle periferie, manca la toponomastica, addirittura ci sono strade dove non ci sono le descrizioni delle vie, soprattutto mancano gli asfalti, mancano i marciapiedi, la pulizia della città, le potature delle piante, insomma una serie di situazioni che ovviamente dovranno essere approfondite. Io e il mio amico e il collega Berardino Fiorillo approfondiremo proprio in questo periodo dove è in discussione il bilancio dell'anno 2022 del Comune di Pescara. Quindi ritengo necessario aver fatto questo approfondimento prima per poi calare quelle che sono le esigenze dei cittadini e delle periferie rispetto a un bilancio che è in discussione. Pari dignità tra le periferie e il centro della città. Il risultato è una prerogativa soprattutto dell'Udc Fiorilli, voi siete andati in giro per la città per ascoltare i cittadini. Credo che questa dovrebbe essere un po' una caratteristica di tutti coloro che fanno politica, soprattutto a livello locale. Si dice spesso la politica in mezzo ai cittadini, ma in realtà poi la politica in mezzo ai cittadini la ritroviamo soltanto in campagna elettorale. In più c'è questo che magari spesso i cittadini di periferia hanno più difficoltà a rappresentarsi con l'amministrazione comunale e quindi a rappresentare anche le proprie esigenze. Per questo grazie alla loro devolissima iniziativa del consigliere Massimo Liano Pignoli che è sempre attento a queste esigenze abbiamo voluto andare incontro noi a quelle che sono le istanze, i bisogni e quindi considerare e vedere di persona quali potrebbero essere le attenzioni particolari. Abbiamo visto che c'è bisogno di grossi interventi e questo l'amministrazione sta già portando avanti come per esempio l'abbattimento del freddo di Cavallo, ma anche di piccoli interventi.